Musica Buon salve cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter e What's Mystery C'è? Uh, siamo terzi in questo orgoglio delle case in cui io non farò nient'altro, quindi ma 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 ragazzi non siamo qui per questo, siamo qui perché è uscita la nuova versione, la 1.18.2 Che trovate già su tutto il posto come al solito sul mio sito, trovate il link qua sotto in descrizione eccetera Come andare a scaricare, c'è scritto tutto sul mio sito, quindi questo video sarà brevissimo, non ci sarà tantissimo altro da dire Vi ricordo soltanto giusto le solite cose, bisogna avere per forza l'account Facebook collegato Perché altrimenti perderete salvataggio Lo andrete a trovare qua in basso a sinistra, sulla rotellina, info account e vedrete che siete collegati Se siete collegati allora potete tranquillissimamente andare a prendere e a mettere la mod Perché dovete innanzitutto togliere quella originale e poi mettere la mod Se provenite già da una mia mod allora basta aggiornare In questo momento non sono uscite completamente le mod, basta che andate a vedere sul sito comunque ci sarà scritto 1.18.2 il prima possibile appena esce quella nuova Quindi ragazzi andate a vedere lì, poi magari in realtà quando io ho pubblicato questo video in realtà poi la mod è uscita Davvero questa ora non lo posso sapere, in questo momento che sto registrando non è uscita, non sono uscite le mod in realtà Io lo sto preregistrando quindi andate a vedere sul sito e lo trovate Se non ne trovate una è inutile che mi scrivete in 5 secondi dicendo è uscita la mod, uscita la mod Andate a vedere, appena esce la mod la metterò online Bisogna tenere la foglia in bocca per 30 lunghissimi giorni Ma ragazzi direi che per ora è tutto, se avete qualche domanda trovate qua sotto in descrizione per potermi iscrivere E soprattutto ragazzi vi ricordo di stare attenti e non darvi troppa energia Perché comunque insomma Non esageriamo, mai 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 esagerare Ragazzi non mi vengono in mente altre cose che potrebbero interessarvi Le soluzioni sono sempre risolute, sono scritte tutte sul sito Non potete avere più di un'applicazione installata Quindi se installate la mod dovete trovare originale e cose così Direi che per oggi è tutto Mi raccomando, buon gioco E fatto il Miss Gatto Non lo tocco il gatto Mamao Iscriviti al canale Iscriviti al canale Azzan Oft